La ruota della fortuna di Jerry Scotty fa il suo ritorno in prima serata su Canale 5. Ehi amici! Avete sentito la fantastica notizia? Jerry Scotty tornerà presto sullo schermo con la celebre trasmissione della ruota della fortuna su Canale 5. Sì, avete capito bene. Il conduttore si sta preparando per questa nuova avventura dopo il successo ottenuto con lo show dei record. La nuova edizione del game show dovrebbe debuttare subito dopo la conclusione di avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, programmato per il prossimo 6 maggio. Sarà un evento imperdibile, con Jerry Scotty pronto a sfidare l'eredità di Marco Liorni. Chi riuscirà a conquistare il pubblico in questa competizione di ascolti? Ma cosa ci riserva questa nuova edizione della ruota della fortuna? Il format dovrebbe rimanere invariato, con Jerry Scotty affiancato dalla ex concorrente del grande fratello, Samira Lui, nel ruolo di Valletta. Il programma è stato registrato in anticipo e finalmente andrà in onda il prossimo 6 maggio. Siete pronti a tifare per Jerry Scotty e il successo della sua trasmissione? Non vedo l'ora di assistere allo sviluppo di questa nuova avventura televisiva e scoprire se riuscirà a conquistare il cuore del pubblico. Restate sintonizzati, amici, perché si prospettano serate piene di divertimento e suspense. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.